Buongiorno, benvenuto. Uscendo poco fa, avevamo l'avvocato Manuela Maccaroni, la nostra ospite, così ti chiedevano. È vero che abbiamo veramente l'Italia, io non so se effettivamente è uno dei paesi in Europa che è più legato agli animali domestici. Ma guarda, ti do un esempio. Ah, forse sì. Sì, 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 assolutamente sì. Pensa che ci sono più cani in Italia che in Germania. Oh! Sì, sto parlando di cani a quattro zampe. Sì, torno di quelli, è chiaro, è chiaro. Più cani che in Germania, pensa te. E come mai c'è un motivo, dipende dalle nostre abitudini, dalla sensibilità. Amiamo gli animali, tutto lento. Quindi più in Italia che in Germania. Più in Italia che in Germania, sì. Proprio di numero, non in percentuale. Anche in Germania avendo più abitanti, no no, di numero, di numero, c'è un milione in più. Ah ma mia, veramente tanti. Quindi questo è un dato di fatto che comprova anche che il legame è forte. Assolutamente. Vorrei anche farti un'altra domanda, dottor Dog. Oltre a chiedere ai nostri ascoltatori, oggi non abbiamo molto, molto tempo, ma qualche minuto c'è di sicuro. Potete mandarci domande al 3775-104-500. 3775-104-500. Questo è il numero per mandare messaggi, domande a dottor Dog sul vostro animale, sul vostro cane, sui suoi comportamenti, su cosa fare in alcune circostanze. Tutto questo migliora? Ci migliora? Avere un animale? Avere un animale, assolutamente sì. Sei sicuro di questo? A livello neurologico, fisiologico, noi abbiamo un rilascio di ossitocina. L'ossitocina è l'ormone dell'amore, ok? Che abbiamo, per esempio, le donne producono ossitocina quando allattano. Perché in quel momento poi il neonato prende dall'atte l'ossitocina anche lui e si crea un legame fortissimo proprio nel momento dell'allattamento. Perché se uno pensa che poco prima gli ha fatto male uscendo il parto, eccetera. Quindi questa ossitocina si crea quando noi accarezziamo un animale. L'animale, in questo caso il cane, sente dall'odore che noi abbiamo un cosiddetto oxytocin dump in inglese, cioè un rilascio di ossitocina. E a suo tempo anche lui rilascia ossitocina. Quindi è uno scambio tra le due specie che fa bene a tutte e due e prolunga la vita. Avere un animale prolunga la vita, specialmente se è ben educato. Guarda che roba ragazzi, noi ci troviamo d'accordo. D'altronde si parla di affetti, l'affetto è vero. C'è anche un altro aspetto, dottor Dog, di cui ti chiedo. E cioè il modo in cui trattare il proprio animale domestico. Ma ne abbiamo parlato un paio di volte in passato. La cosa importante è ricordarsi che un animale è un animale. E noi siamo esseri umani, siamo un po' diversi. Cioè il nostro modo di comunicare è diverso da loro, i nostri bisogni sono diversi da quelli di loro. Ma più o meno il cane vuole semplicemente, la tua attenzione vuole stare con te, vuole condividere la sua vita, vuole che tu condividi la tua con lui. Quindi a questo fine è meglio se il cane è ben educato, no? No, chiaramente, perché così tu lo puoi portare in giro dappertutto, là dove si può. Sa stare al suo posto. Sa stare insieme al tuo fianco e questa è la cosa che lo rende più felice di tutto. Quindi vuole rimanere al nostro, questo lo rende felicissimo. Sì, sì, assolutamente. Vuole il tempo, vuole il tuo tempo. Vuole il tuo tempo, sì. Leggevamo oggi, si parlava col professor Mario Tozzi anche di questo, di animale. Un ascoltatore diceva, ho letto Lorenz, l'etologo, che raccontava che l'animale non ha affetto. L'animale lo fa per interesse, il fatto di stare con te, perché tu gli dai da mangiare. Sni. Allora, Lorenz bisogna dire che di cavolate ne ha dette tante. Anche lui ha riconosciuto questo prima di morire. Quindi non è un po' come Freud, anche lui si è un po' svegliato sul letto di morte. Però una cosa sicuramente ha scoperto che ha scoperto l'imprinting, cioè il periodo iniziale di vita di ogni animale che è molto importante per lo sviluppo futuro. Ma per quanto riguarda avere sentimenti o sentire dolore, avere empatia, eccetera, certamente i cani hanno sentimenti, sentono dolore, hanno empatia e hanno bisogno, essendo un animale altamente sociale, hanno bisogno di questo scambio sociale. Infatti, se pensiamo che in Italia la legge, se Dio vuole, è stata cambiata affinché lasciare un cane privo di contatti sociali, cioè per esempio sempre in giardino e quasi non lo vedi mai, magari stai in un cane di andare a mangiare e finisce di la cosa, oppure addirittura su un balcone tutta la giornata, è ormai illegale. E c'è una buona ragione. Quindi non si può lasciare un cane in balcone, sul balcone? No, tutta la giornata no. Ah, questo sì, sono d'accordo con te. Tutti lo fanno, però non è una cosa... Beh, a Roma per molti è necessario perché non l'hanno posto in casa, no? Beh, no, se non l'hanno posto in casa è meglio che si prendano un peluche. Eh certo, sono d'accordo con te. Oltretutto credo che il cane non solo ne soffra, ma poi si faccia sentire. No, ma anche tutto è avvicinato. Eh, perciò si faccia sentire. Assolutamente sì. Fa sentire il suo malessere. Ci sono cani molto feroci, scrive un ascoltatore al 37, 75, 104, 500. Anche umani. Con i cani feroci, cioè se un cane già feroce vuol dire non è stato educato male, no? Che non sia stato educato. Cosa vuol dire feroce? Allora, feroce è di solito un attributo per gli animali selvatici, no? Un leone feroce. Eh, feroce. Ma il leone può anche dormire, può essere tranquillo, può essere anche coccoloso, per carità. Però è un animale selvatico. Il cane è un animale domesticato, quindi non è per definizione feroce. Ci sono degli individui che purtroppo hanno subito delle cose in passato che li hanno resi aggressivi. Quindi sì, questo sì c'è, purtroppo c'è. Ancora domande, Doc, riguardo ai nostri animali. Buongiorno. Secondo il mio modesto parere ci sono più cani in Italia rispetto alla Germania perché non abbiamo possibilità di farci una famiglia dei figli. Quindi per riempire questo vuoto si ripiega sul cane. Ne conosco tanti che fanno così. Non ha torto. Non ha assolutamente torto. È sempre un affetto, insomma, no? Sì, sì, certo. Però lì si apre un discorso un po' più ampio che ha a che fare con la tutela di giovani famiglie. Avere un bambino è una cosa, io lo so, mio figlio ha sei anni, quindi so bene che non è una cosa semplicissima. Anche avere un animale però è comunque una responsabilità anche di spese. Assolutamente sì, ma è molto più limitata a confronto a quella di avere un bambino. Senti, c'è chi ti chiede del gatto, dice un gatto. Tu il gatto ce l'hai un po' distante? No, non è che ce l'ho distante. A me piacciono più o meno tutti gli animali, no? Non vado pazzo per gli scarafaggi, no? Ma a parte quello. Il gatto è un animale molto solitario, individualista per definizione, no? Ma anche ci sono tantissimi gatti nelle case che danno tantissima gioia ai loro padroni. Ma io preferisco i cani, sì. Eh certo, c'è poco da fare, non è 3, 7, 7, 5, 100, 4, 500. E infatti vedi, c'è chi insiste sul gatto, ma il gatto naturalmente va benissimo. Anche io sono però della squadra del cane. Sì, ma anche i criceti. Sì, ci sono. La settimana scorsa abbiamo parlato di poccellini d'India. Ah certo, è vero. Di conigli addirittura. Conigli, sì. Ce ne sono molti. C'è di tutto, c'è di tutto. Certo, il cane, bisogna anche fare una differenza, non sono tutti uguali gli animali, no? No, ce ne sono alcuni che chiaramente hanno forse più senso rispetto al rapporto con noi uomini, o no? Ma il cane nasce essenzialmente come partner da lavoro, il gatto no. È certo. Un gatto che lavora per l'essere umano non c'è. Il cane invece nasce come partner da lavoro. E ancora lo fa, certo. E ancora lo fa e non ci dimentichiamo. Ci fa la guardia, per esempio. Ci fa la guardia e ci viene a salvare. Cioè, quando devono cercare gente sotto le macerie. Non mandano un gatto, mandano un gatto. Ma no, questo niente contro il gatto, per carità. Ma è semplicemente totalmente diverso. Nel criceto, nel porcellino d'India, nel toniglio. No, no, no. Allora, il primo libro che ho letto oggi, che ho letto oggi ho 43 anni, è stato Lampo, il cane viaggiatore. Una storia vera e commovente che consiglio. Io non conosco questo libro, Lampo, il cane viaggiatore. Carino, carino. Io vi consiglio anch'io un libro che è dall'altra parte del guinzaglio. Sì. È scritto da un'americana, un PhD in biologia e in comportamento, molto, molto famosa, che si chiama Patricia McConnell, che ormai ha 75 anni, quindi non gira più per il mondo a fare il lavoro di comportamentalista come me. Ma ha scritto questo bellissimo libro che parla del rapporto tra il cane e l'essere umano. appunto dall'altra parte del guinzaglio. Mi piace l'idea ancora. Vediamo un po'. Chi sta dietro ai cani vuol dire che ha tempo in abbondanza da perdere. È una vergogna vedere oggi, vedere poveri i vecchi in ospizio per tenere i cani in casa. L'Italia è un paese finito grazie ai cani. Beh, questo è... Quale tipo di cani stai parlando? Dai, apriamo un discorso un po' più ampio. Togli da questo le cose che possono essere discusse. C'è qualcosa di interessante nella... Due cose interessanti. La popolazione invecchia, e questo tutti lo sanno, però gli anziani di oggi sono molto più arzilli di quello che erano una volta. E vivono, la gente vive molto più a lungo. Quindi hanno più possibilità non solo di muoversi, di fare sport, ma anche di avere un compagno peloso. E quindi si prendono dei cani. Per quanto riguarda invece gli ospizi in Italia, come in tutto il resto del mondo, ci sono ospizi con tante persone anziane che vengono visitate da cani, pet therapy, che li portano agli ospizi per avere, specialmente poi se hanno delle malattie tipo demenza, alzheimer, eccetera, per avere questo contatto fisico con l'animale che, come dicevo prima, gli fa piacere. Gli fa piacere, ha questo rilascio di ossitocina e quindi gli fa fisicamente piacere. Guarda, proprio ti chiede, e lo capisco bene, ma se lo stai dicendo, lo puoi testimoniare benissimo, Margherita scrive, vorrei chiedere se è legale, ma ha già risposto, dottor Torra, anzi l'ha detto lui senza che glielo chiedessimo, se è legale lasciare il cane tutto il giorno su un balcone di un metro. No, io suggerisco a Margherita di denunciare. Di andarci lei e di mandare il cane a qualcuno. No, 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 è probabile che Margherita stia denunciando forse quello che vede succedere davanti ai suoi occhi, probabilmente è nel tuo condominio, se vedi, se c'è qualcuno che fa questo, poi benissimo. A chi si denunciano queste cose normalmente? Ma di solito alla polizia locale. Alla polizia locale, quindi alla polizia municipale. Un altro... Guardie zoofile. Un altro parla, dice anche il gatto lavora, tiene i topi lontani. Sì. Anche questo è un lavoro. Il gatto ha smesso di mangiare i topi ormai da decenni, perché purtroppo, invece di usare il gatto, cosa facciamo? Ai gatti ferali, i gatti che vivono, diciamo, in campagna, gli diamo da mangiare per tenerli in vita queste colonne di gatti. Però ammazziamo i topi con la strechnina, essenzialmente, con dei veleni. Quindi è una cosa... Sarebbe bello se ancora il gatto potesse fare il lavoro che faceva una volta. Sarebbe bello per il gatto. Oggi non lo può più fare. 3, 7, 7, 5, 100, 4, 500. Qua dice ancora... Un altro dice bravo riguardo evidentemente alla denuncia. Tiene i topi lontani il gatto e scusate se poco dovreste vedere mia moglie cosa con mirare. Beh, se tu pensi così, ma dipende dal topo. Se è un topino, sì, ma se sono quei topi è più complicato. Angelo anche ci scrive. Ho appena perso una piccola meticcia che è vissuta 18 anni con noi. È stata la perdita più dolorosa dopo la perdita di mia madre. Me ne vergogno un po', ma è la verità. No, niente vergogna. Anzi, veramente, ci sono molti che sentono molto di più la perdita di un animale così vicino a noi che di un essere umano prossimo della nostra famiglia. È così la verità. La ragione non è perché non abbiamo gli altri membri della nostra famiglia, altri membri umani della famiglia, ma semplicemente perché il cane ci tocca così profondamente o anche un gatto ci tocca così profondamente che quindi quando viene a mancare è terribile. Ancora avanti ci chiedono anche se possono contattarti Dr. Dog Trainer alla pagina Facebook. Trovate lì il modo di parlare con Dr. Dog. Sì, anche su Instagram, Twitter. Twitter. YouTube. YouTube. You have it. Everything. Ah, qui sono pronunce meravigliose qua, eh. E allora poi scrivono anche, guarda, io appena, allora, aspetta, scusa, se il marito della signora è un carabiniere ausiliario, ah, andiamo proprio sul particolare, beh, vabbè, è lo stesso. Un carabiniere ausiliario si denuncia lo stesso. Si denuncia lo stesso, anche loro fanno sbagliare. Magari non lo sa, eh. Oppure bisogna dirglielo, se invece non sente, allora la denuncia. Ma dipende, se il cane baia tutto il giorno sicuramente non gli fa piacere, se magari sta lì tranquillo e dorme, è illegale, però per questo cane può andar bene. Pietro dice, buongiorno, il mio gatto sta per diventare cieco, è un gatto casalingo, gatto normale, come comportarmi? Il gatto sta... Gatte... Allora, dipende dall'età del gatto, però bisogna stare molto attento perché ha un cane, ha un gatto, è un animale che sta diventando cieco, quindi immagino ad avanzata età, bisogna dargli dei paletti per orientarsi in casa, che possono essere una maglietta del padrone messa sull'angolo della sedia, dove lui sa questa è l'entrata poi per la cucina, quindi aiutarlo un po' a tracciare la mappa della casa e poi chiaramente non può più uscire un animale che sta diventando cieco è impossibile all'esterno. Allora, ancora, un attimo, ancora leggiamo, i cani sono stupidi, scrive un altro, perché si rendono utili ad ammazzare altri animali, i gatti invece sono autonomi e ammazzano anche le vipere, ma questa è una lotta tra il dottor dog, i cani che ammazzano gli altri animali, tra chiama i cani e i gatti, ma vanno bene... non sempre i quali, però conosco purtroppo molti esseri umani, cacciatori che ammazzano altri animali. Allora, la ragione è facile, passo più tempo con il mio cane che con tutto il resto della famiglia. E beh, questo dice tanto su te come persona. No, all'altronde, passo più tempo con il mio cane che con tutto il resto della famiglia è per motivi normali, i figli crescono e via, quindi il mio tempo, e vabbè, infatti, l'abbiamo detto, è un affetto completamente comprensibile. È vero che per legge italiana non è reato mangiare cani e gatti? Sì, e questo è vero, per la semplice ragione che il cane e il gatto, come tutti gli altri animali, davanti a legge, sono cose, purtroppo, ancora, ma stiamo lottando che questo cambia in Italia, che il cane e il gatto e tutti gli altri animali sono considerati cose. Quindi nemmeno la violenza sul cane e sul gatto? La violenza sì. La violenza è perseguita. Infatti c'è una grande discussione su come si ammazzano gli animali. Ai, 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 questa non la sapevo. Sì, sì, sì. Quindi mangiare cane e gatto non è reato? Non è reato in sé, se poi tu lo fai trucidandolo, appendendolo, eccetera, allora è un reato di maltrattamento, certo. Allora, altre domande. La Roma non fa filtro a centrocampo? Eh, c'ha bisogno di un cane. Era, però, è arrivata la domanda e io l'ho fatta. Allora, il gatto ha 11 anni e soffre di glaucoma. Mi dispiace per il gatto ma chiederei a veterinario cosa fare. Sì, 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 non può chiederlo. Al dottor Dog si occupa di comportamenti del cane. Ne so qualcosa, però c'è poco da fare. 11 anni, glaucoma, mi dispiace. Ancora, senti, altra domanda rispetto proprio alle violenze sugli animali, no? E alle regole che ci sono, dottor Dog. Per esempio, che io sappia è regola che il cane, soprattutto di media, grande taglia, abbia la museruola quando va a passeggio. È così o no? No, la regola è che tutti i cani, tutti i padroni di cani che portano il cane a spasso devono portare con sé la museruola nel caso ci fosse bisogno. Prima regola. Seconda regola, i guinzagli non possono essere più lunghi di un metro e mezzo. Quindi, tutti quelli che hanno il guinzaglio estendibile sono fuori legge, ma infatti è assurdo. Perché se ce l'hanno gli estendibili per decine di metri, che senso ha il guinzaglio? Se il guinzaglio si allunga, mi spiace, è così, poi sono cose che ognuno deve vedere, ma poi chi lo va a controllare. Quindi, molte cose nella legge bisogna un po' magari riguardare e definirle forse un po' meglio. Allora, ditelo ai disabili in carrozzina quanto sono utili i cani che la fanno per strada e vengono raccolte dalle ruote delle carrozzine. Vabbè, questo certo dipende dai padroni che non puliscono naturalmente. Cosa pensa il dottor Dog di un paese come la Cina dove i cani vengono brutalmente uccisi, abbastonate e mangiati? È una cosa totalmente ignobile, però se pensiamo che noi mangiamo le mucche che in India sono sacre, quindi gli indiani pensano di noi che anche noi trucidiamo le mucche, quindi parliamoci chiaro, non è una bella cosa. Però, dipende, noi, gli animali di affezione pensare di mangiare è una cosa terribile, non possiamo immaginarcelo. Cina, però, è un paese talmente vasto dove c'è di tutto, c'è dagli amanti degli animali a quelli che purtroppo festeggiano questi festival orrendi, queste mattanze che dovrebbero finire. in alcune zone del... Allora, noi dobbiamo chiudere, Doc. Io ricordo, Dottor Dog Trainer, trovate su questa, la pronuncia è corretta perché lo faccio, la faccio ad Usum Delfini, in maniera che sia più facile, Dottor Dog, DR Dog Trainer, su Facebook, trovate il modo di contattare Dottor Dog, a cui io rivolgo il mio saluto, di buon pomeriggio, di rivederci presto, Doc. Il tuo cane quanti anni ha? Il mio cane ne ha quattro. Cucciolone. Beh, no, è adulto. Adulto, quattro anni è adulto. Com'è? Tu l'hai scelto in base a cosa? Allora, io... A tuo gusto, alla tua... Diamo pochi secondi. L'ho scelto in base alla tranquillità che ha mostrato. Io molto spesso mi viene chiesto di analizzare i cuccioli di una cucciolata, che sono degli esami caratteriali che si fanno appunto per definire un po' quale strada è in bocca. Tu sai già il carattere del cane che prendi. Sai l'indole, sì. Poi il resto lo formi strada facendo, questo è vero. Io volevo un cane tranquillo che sa viaggiare perché con lui sono in giro per tutta Europa e siccome mi occupo molto spesso di cani aggressivi o che hanno problemi di comportamento, lui è un gran pacificatore di questi cani perché alla fine... Addirittura, lo utilizzi anche per lavoro? Assolutamente, sì. Sì, sì, sì. Non solo in televisione ma lui viene proprio con me fisicamente in situazioni vere e proprie. Sì, sì, sì. Il miglior maestro per un cane è che un altro cane. E certo, dottor Dog, grazie. Saluti.